Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo nell'episodio numero, non mi ricordo, forse il 39, può essere, può essere, non mi ricordo di preciso. Signori, benvenuti in questo nuovo video. Allora, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché l'obiettivo è quello di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno, non ci riusciremo, la vedo difficile, però io ve lo ricordo sempre, signori. E detto questo, detto questo, niente, partiamo con il video di oggi. Intanto qua, cioè, è diventato un gran casino, cioè, è cresciuta tutta quanta la piantagione e va anche più sotto, cioè, è impressionante. Cioè, io ero qua per passare, veramente passo il, 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 come posso dire, la barriera del, del, che neanche mi chiamo, non mi ricordo come si chiama queste cose. Comunque, signori, stiamo delirando un attimino dalle situazioni del far oggi. Cosa facciamo oggi? Aiuto. Allora, intanto una piccola novità, signori. Ho messo la bellissima porta di ferro qui, così possiamo tranquillamente entrare nel nostro villaggio senza creare problemi. E poi abbiamo delle novità, signori. Allora, intanto ho allargato un attimino le case. Ho sistemato, ho cercato di farle un pochino, un pochino meglio, un pochino meglio. E poi abbiamo allargato anche i villageri. Ne abbiamo uno, ne abbiamo tre, altri due qui, ne abbiamo altri due lì. Abbiamo un totale di cinque villageri, signori. Cinque villageri e sono che ognuno c'è proprio il lettuccio, tutti possono dormire. E ne abbiamo uno che fa qui il cartomanda che abbiamo bloccato con il libro di ripristino. Che già abbiamo bloccato perché 24 fogli. Ho cambiato il cambio, praticamente, gli scambi. Ho praticamente modificato, spostando l'altarino dei libri più di una volta e sono riuscito a ottenere nuovamente questo tipo di scambio. Che è decisamente meglio perché 24 fogli li facciamo come niente, signori. 24 fogli li facciamo come niente. E poi ho bloccato anche lui, che è diventato un agricoltore, che con patate e rape ci darà gli smeraldi. Però non riesci a coltivare un cacchio, amico mio. Guarda che cazzo l'hai combinato, io ti avevo sistemato tutto il pratino carino e coccoloso. Te hai fatto un macello, te, la zappa ce la dovresti avere. Vedi, ti zappà e ti non rompere le scatole, a meno che questo non ti crea problemi messo lì. E quindi praticamente non riesci a coltivare bene, non è un problema mio. Tu che cosa vuoi? Tu sei l'unico che non lavora, tu non vuoi fare nulla nella vita praticamente, e vattene a quel paese. Signori, cosa facciamo oggi? Allora, oggi sistemiamo un pochino questa zona qui del villaggio. Allora, senza ombra di dubbio che penso che lo espanderemo un poco da quel lato per cercare di... Ah, vedi che stai seminando. Allora, sai seminare, bastardo. Dovremmo un attimino allargare un pochino in questa direzione il villaggio, perché voglio che questa casa sia giusta e questo orticello sia un poco migliore rispetto a com'è attualmente, giusto? Però non mi va sinceramente di fare un altro video in cui rompiamo qui il vetro e ci allunghiamo ancora di più. Che farò ovviamente off camera. Il... diciamo che la nostra... questa parte di qua però la lasciamo un attimino ferma. Io voglio semplicemente fare un piccolo percorso, così come se fosse un sentiero vero e proprio, che porta in tutte quante le case. Per ora ci limitiamo a fare questa situazione di qua, in modo tale da tenere tutto un pochino... Però una torcia li metticela e metticela anche qui. Perfetto. Poi, cosa voglio fare? Signor, questa torcia qui è brutta. La leviamo e la mettiamo intanto qui sopra. E sì, questa casa signor, la modifico off camera. Allargherò questa parte di qua di qualche blocco. Modificherò questo, lo modifichiamo off camera, tanto comunque vedete più o meno l'orticello come è combinato. Lo faremo un poco meglio perché lui saltando lì sopra probabilmente rovina tutto il terreno. Voglio fare... Voglio fare... Voglio fare... Voglio fare... Voglio recuperare del legno. Voglio fare un pozzo. Vedete voi a che serve il pozzo? A niente, però se non ricordo male, noi abbiamo recuperato una campana. Perfetto. Voglio fare un pozzo. Voglio fare... Quindi mi serve il legno. Che ne abbiamo un pochino, ma ci prendiamo anche l'altro legno. Dovremmo avere delle... Delle... Delle staccionate? No, non abbiamo niente delle staccionate, però non faremo tutte di legno nero. Le faremo di un altro legno. Le faremo di betulla. Ci sta come contrasto? Secondo me è una gran cagata. Però lo faremo a prescindere. Lo faremo a prescindere. Poi mi serve del bombil. Ce l'ho qui del bombil. Perfetto. Alberi direi di non piazzarne perché alberi diciamo che andremo un attimino fuori dal progetto. Fuori dal progetto è anche perché comunque... Spero che possa spawnare qualche golem una volta che cresce anche l'altro bambino là sotto. L'altro bambino che abbiamo. Spero possa... Possa nascere anche un altro golem. Allora, metti che io qui... Voi... Certo fanno un bordello. Metti io qui, giusto di fronte a lui. Voglio fare una cosa di questo genere. Ecco, tu... Già avete rotto le scatole. Vi levate. E levati. Ah, devono controllare tutto. Ok. Un piccolo pozzetto. Tanto per dare un po' di movimento. Ma vi levate tutte e due dall'iniezione di lavoro. Perfetto. Sì. Ci sta, mi piace. Qui ci potremmo metterci l'acqua. Ok. C'è una crafting table qua a casa... In mezzo a qualche casa? No. Allora, piazziamo una crafting table qui. Piazziamo una crafting table qui. Perfetto. Creiamo un bel paio di fence o staccionate, come si chiamano in italiano. Sì, potevo utilizzare il menu rapido da quel lato, ma non l'ho fatto. Perché sono scemo. Perché sono scemo. 18. Mi bastano 18? Allora, forse 18 non mi bastano. Perché dobbiamo capire a che altezza viene messa la campana. Quindi se io tipo faccio una cosa di questo genere, faccio una cosa e metto quella al centro, la campana viene una gran cacata. È giusto, concordate con me. Quindi dovremmo fare tre di qua e tre di qua. Perfetto. A questo punto queste le uniamo. Ok. Possiamo mettere la campana qui. Che suona in maniera carina e coccolosa. Direi di fare la stessa cosa da questa parte. Ok. Sì, una cosa semplice, carina e tanto per abbellire un attimino il villaggio, non per altro. Ok. Una sorta di pozzo così, delle meraviglie. Poi con un po' di boom mille, signori, andiamo a dare... E direi anche per un attimino di zappare il terzo qua attorno al nostro bellissimo e inutile pozzo. Perché sennò diciamo che già non serve a nulla. Però quantomeno lo rendiamo un attimino più reale. Ok. Poi qua ci sarà il percorso che va verso l'altra casa. Quindi poi off camera, signori, modificherò tutta questa parte di qua. Vediamo un attimino come poterla sistemare. E andiamo di boom mille, signori. Andiamo di boom mille. Diamo un attimino di colore a queste strutture. Un po' di... così. Un po' qui, così. Ok, un po' così. Allora queste sono... Siete troppo alte. Troppo, 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 troppo. Va bene un poco, ma così poi diventa troppo ed eccessivo. E poi perché non mi dai tanti fiorelli? Mi dai tutta questa erba brutta e non mi dai fiorellini. Però dai, quantomeno è un attimino più carino. Qui facciamo crescere... Ah, qui mi fa crescere solamente i fiorellini. Bastardo. Bastardo. Ok, di qui. Ok, di qui. Un po' di verde qui a caso. Va bene. Va bene. Un po' di verde qui che mi manca. Ok. Questo devi spostarlo, questo devi spostarlo. Qua ci sarebbe bene una lanterna. La posso fare una lanterna? Sì, penso che la posso fare una lanterna. Così. Prendimi questi. Ok. Dove ho la crafting table? Se non avendo male ce l'ho qui. Questi stanno già a dormire tutti quanti. Bravi. I miei ragazzotti che dormono velocemente. Facciamo una lanterna. Mi basta. Che l'andiamo a piazzare qui. Così illuminiamo questa zona di qui. Leviamo questa torcia di qua. Che non mi piaceva più di tanto. Però qui abbiamo un attimino perso la luce. Ma non tanto. Non tanto. Se non me ci siamo. Ci siamo. Di là siamo illuminati. Di qua siamo illuminati. Ok. Perfetto signori. Io direi che per questo video, che è stato molto semplice, molto veloce, molto poco Poco Possiamo aggiungere qualche altra cosa? No. Io direi semplicemente di modificare questa zona di qua. Perché questo se no continua a buttare Facciamo una cosa. Modifichiamo questa zona di qua. Leva sta cosa. Ah io qua ci avevo messo l'acqua. Ah perfetto. Ora ho capito perché avevo messo il coso qua. Va bene. No, non fa niente. Mettiamo questo qui. Così è bello distante dalla zona di lavoro. Qua le andiamo a mettere una e due. Ok. Chi è? Chi è sveglio? L'agricoltore è sveglio. Si sente. Gli abbiamo mosso le cose signori. Gli abbiamo mosso le cose e si è preoccupato. Che è successo? Io riesco a uscire. Sì. E fatemi semplicemente recuperare. Dovrei avercela. A portata di mano. A portata di mano non tanto. Però una di quelle... Come si chiama? Le linfele? Le piante quelle... No. Qui non ne ho. E qui? Non ne ho nemmeno. Va bene. Le recuperiamo un attimo velocissimamente qua da sotto. Qua sotto. Perfetto. Dammi questa. Ok. C'è stato questo piccolo cambiamento in corso della sistemazione. Però va bene. Però va bene. Ditemi cosa ne pensate di questo villaggio signori. Se non è... Dai. Comunque è carino. Non è... Non è chissà che cosa. Però... Quanto meno abbiamo i villager... I villager a casa. I villager a casa. Che poi io cercherò... Cercherò di continuare a far riprodurre. In modo tale da... Ok. Così lì non ci può cadere nessuno. Questo li abbiamo messo qua. Lì la lanterna c'è. Sì signori. Off camera vedrò un attimino di... Modificare questa parte di qua. Per cercare di allargare e fare quantomeno una terza casa con... Con tre letti. Con due letti. In modo tale che possiamo dare ancora altra vita ai... Possiamo far riprodurre ancora una volta i nostri villager e averne sei praticamente. E poi decidiamo un attimino che lavori fargli fare. Perché ancora non ho ben deciso. Potremmo fare il fab... Potremmo fare... Non mi ricordo chi altri c'è come lavoratori. Comunque signori. Per questo breve video molto veloce e indolore. In cui diciamo che il villaggio prende forma. Se avete dei suggerimenti datemeli. E niente signori. Poi off camera farò... Modificherò la parte là dietro. E così sistemiamo anche l'ultima casetta. Che secondo me basta e avanza. Tanto diciamo che il villager che ci interessava era quello del colmenni. Detto questo signori io vi ringrazio di aver guardato questo video. Vi ringrazio per il like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao. Ho distrutto tutto. Ho distrutto.